Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per venerdì 29 dicembre. Prosegue ancora il tempo poco invernale apportato dalla presenza, prolungata presenza da settimane, dell'inutile anticiclone della Zorre. Assenza di piogge, assenza di nevicate, solo cieli grigi in Valpadana, regioni tireniche, qualche debole pioggia sulle avanti Ligure. Temperature invariate, massime intorno ai 10-12 gradi al nord, 12-14 al centro, 13-15 al sud e sulle isole maggiori. Grazie. Grazie.